Per parlare dell'anime di oggi dobbiamo tornare indietro di ben 9 anni perché non fa parte della stagione invernale 2024 ma della primaverile 2015 Per farvi un'idea questo anime uscì insieme alla prima stagione di Food Wars e da Maci Ma perché ne parlo solo ora? Perché ogni tanto mi piace recuperare qualcosa che mi è sfuggito in passato e negli ultimi giorni è toccato a Yamada-kun e le sette streghe Che sono qui a raccontarvelo perché si è rivelato abbastanza particolare come potete vedere dal titolo Questa è la storia di Yamada Ryu, un ragazzo monello a cui piace dormire in classe, arrivare in ritardo, provocare risse e fare schifo a scuola Per la precisione in un prestigioso liceo privato, quindi un vero pesce fuor d'acqua Tutto il contrario di Urarashiraishi Una ragazza con ottimi voti e un comportamento eccellente Così Ryu stizzito dalle critiche appena ricevute da un docente sale le scale insieme alla noiosa Urarashira Che guarda male, per poi essere guardato male a sua volta, cosa che non si aspettava Infatti inciampa cade su di lei e... Infermieria Palpatina Controllino Si sono appena scambiati di corpo Your name? No, quello è uscito dopo Ma sono cose che capitano quando si cade dalle scale? No, non è vero Comunque Ryu, o sarebbe meglio dire Shiraishi, Ryu non ha perso tempo e si è fatta subito notare in classe Finché non è stata portata via a forza da Shiraishi, o sarebbe meglio dire Ryu in Shiraishi Capendo che questa magia si è verificata a causa di un bacio avvenuto durante la caduta delle scale Com'è possibile baciarsi? È un anime Lei essendo dedita allo studio decide di aspettare la fine delle lezioni per non perdersele Seppur abbia una cosa strana in mezzo alle gambe E così Ryu girando con il suo corpo scopre quanto lei sia sola e sia sillata e bullizzata da alcune persone Finché non decide di sistemare il tutto Finendo poi dall'essere fermato da se stesso Quanto è intrippante I due riescono a riscambiarsi per poi decidere di rifarlo con lo scopo di far passare gli esami di riparazione a Ryu Ma dopo esser caduto nella trappola di un certo Miyamura ed aver menato con il corpo di Shiraishi tre ragazzi Vengono scoperti da lui che in cambio gli chiede di far parte del club dell'occulto per evitarne la chiusura essendo l'unico membro E da qui parte la sperimentazione del potere Sì, anche tra di loro per quanto lui non voglia Altra controllatina nei pantaloni Ed ecco un'altra ragazza che si vuole unire al club dell'occulto Perché ne è appassionata per quanto possa finire anche lei baciata Come questa rima Ma come sempre lascio a voi scoprire tutto il resto Perché non c'è solo questo potere e magari le cose non funzionano esattamente così D'altronde nel titolo dell'anime c'è scritto E le sette streghe Ma non ci sono streghe O forse sì Preparatevi a tanti scambi di corpo anche in situazioni abbastanza particolari E poteri interessanti Tra i quali non troverete baci perugina Ma solo lei che bacia lui Che bacia lei Che bacia me Ehi aspetta Quindi la canzone di Annalisa era su questo anime? E le sette streghe